Comincio io e poi passo la parola a Matteo Piondosi. Allora, il Consiglio dei Ministri ha approvato la nota di aggiornamento al DEF per il 2023 e per gli anni successivi. Abbiamo aggiornato il quadro macroeconomico in relazione all'impatto che due fattori, principalmente la politica monetaria restrittiva e le conseguenze del conflitto in Ucraina generano sull'economia europea e quindi anche sull'economia italiana. Il PIL ha aggiornato per quest'anno lo 0.8, 1.2 per il 24, 1.4 per il 25, 1 per il 26. Abbiamo anche aggiornato gli obiettivi di finanza pubblica, di cui abbiamo dato ovviamente notizia alla Commissione europea. Per quest'anno l'indebitamento netto dall'obiettivo del 4.5 sale al 5.3. L'aumento è ascrivibile praticamente per lo 0.9% dagli effetti di contabilizzazione per competenza del super bonus e dei bonus edilizi. Questo significa che in assenza di questa contabilizzazione avremmo raggiunto l'obiettivo dichiarato del 4.5% in sede di DEF. L'anno prossimo abbiamo posto l'asticella al 4.3. Questo dovrebbe permetterci di confermare quelli che riteniamo interventi indispensabili a beneficio dei reti medio-bassi della popolazione, in particolare il taglio del cugno fiscale contributivo deciso l'anno scorso e misure premiali per quanto riguarda la natalità. Oltre a stanziamenti significativi per il rinnovo del contratto di pubblico impiego, che come è noto è in ritardo per quanto riguarda il processo di ridefinizione in molti settori, a cominciare dalla sanità. Gli obiettivi per il 2025 sono posti al 3.6% e 2.9% per il 2026. Il debito pubblico è sostanzialmente stabilizzato perché da un 140,2% nel 2023 dovremmo arrivare nel 2026 al 139.6%. Il motivo del fatto per cui il debito non diminuisce come auspicato è perché credo che a questo punto diventi evidente a tutti il conto da pagare dei bonus edilizi, in particolare del super bonus, sarà i famosi 80 miliardi. Ahimè in aumento, sono pagati in 4 comodo e rate di circa 20 miliardi ogni anno dal 2024 al 2025 al 2026. In assenza di questo effetto il debito sarebbe esattamente calato di un punto percentuale ogni anno. Questo è il quadro generale di finanza pubblica che si ispira a un principio di serietà e responsabilità. Si inserisce in un quadro più complessivo di ridiscussione delle regole del patto di stabilità che in questo momento è in corso, come sapete, in sede europea dove l'Italia ha una posizione chiara di tipo negoziale e di conseguenza riteniamo di aver fatto le cose giuste con grande responsabilità. Qualcuno potrebbe osservare che non rispettiamo il famoso 3% di deficit di PIL, effettivamente non lo rispettiamo. La situazione complessiva non induce a ritenere di fare politiche procicliche in qualche modo che contribuiscono a determinare, oltre alla politica monetaria e ristrittiva, la recessione e quindi la sticella è stata posta, a nostro giudizio, a un livello di assoluta ragionevolezza. Mi fermo qui, lascio la parola, ovviamente poi ci saranno le domande, lascio la parola a Matteo Pianti del decreto di Giosicurezza. Allora, il Consiglio dei Ministri ha approvato anche un provvedimento d'urgenza, un decreto legge articolato su 11 articoli che descrivo sinteticamente, ma cercando di non tralasciare nulla. Innanzitutto interviene in materia di espulsione di soggetti pericolosi, prevedendo innanzitutto una rifinitura della normativa che, a seguito anche dell'esperienza pratica, ha suggerito, insomma, di precisare che un intervento, per quanto riguarda l'espulsione dei lungosoggiornati, voi sapete i lungosoggiornati sono i cittadini stranieri che ormai sono titolati a permanere sul territorio nazionale con un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, dopo cinque anni di permanenza sul territorio nazionale, viene precisata che l'espulsione che può essere decretata nei confronti dei lungosoggiornati quando ci sono gravi motivi di ordine pubblica e di sicurezza dello Stato possa essere emanata, decretata dal Ministro dell'Interno. L'altro caso è quando ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza e possibilità che adesso era prevista per i cittadini stranieri non lungosoggiornati, viene stesa anche ai lungosoggiornati la competenza del Prefetto. C'è un'altra parte che tocca questa materia delle espulsioni e laddove si prevede la possibilità di espulsione anche dello straniero destinatario di una misura di sicurezza disposta dall'autorità giudiziaria per pericolosità sociale. In questo caso si tratta di una procedura di possibilità di espulsione che si avvale assistita da una procedura in qualche modo accelerata, nel senso che c'è la necessità di richiesta di nulla osta all'autorità giudiziaria che è assistita da un meccanismo di silenzio assenso di corso sette giorni dalla richiesta. Poi l'articolato prevede un potenziamento dei controlli sui visti di ingresso in Italia. Cioè viene previsto che un contingente di 20 unità di personale della Polizia di Stato possa essere collocato presse ambasciate e consolati per potenziare l'attività di controllo sulla regolarità dei visti di ingresso. Questo è ai fini di scongiurare episodi che pure si sono verificati. Insomma tentativi di immigrazione illegale attraverso falsi documenti. Si interviene poi sulla reiterazione di domande di protezione internazionale. Voi sapete che la normativa comunitaria consente in qualche modo del recepito nel nostro ordinamento la possibilità di reiterare le domande di protezione internazionale anche in quei casi in cui inderoga al principio, potrei dire nel bis in idem, cioè dopo che lo straniero che ha fatto domande di protezione internazionale se l'è vista respingere dalle commissioni territoriali anche il giudicato, il procedimento giudiziario ha avuto esito negativo possa reiterare la domanda in qualsiasi momento. L'esperienza pratica dimostra che molto spesso questa facoltà viene utilizzata come meccanismo allusivo dell'espulsione. È prevista una procedura più semplificata senza derogare dal diritto che è previsto ma più semplificata attraverso un'attivazione in via speditiva del Presidente della Commissione territoriale da parte del questore che quindi in qualche modo attraverso un modello organizzativo che prevede quindi un esame speditivo, insomma, accelerato della domanda tesa ad evitare l'utilizzo strumentale dello stesso. Poi c'è una serie di interventi che vengono fatti per il caso di casistica varia, insomma, dello straniero che abbia dichiarato all'atto dello sbarco dell'ingresso sul territorio nazionale quello di voler fare domanda di protezione internazionale e poi non formalizza la domanda. In questo caso è previsto una casistica varia in cui, vabbè, finché la domanda non viene formalizzata il procedimento si considera non instaurato e che vuol dire che in caso di rintraccio può essere assoggettata ad espulsione oppure se a questo si aggiunge l'allontanamento ingiustificato dalle strutture di accoglienza o dal CPR o che fosse trattenuto c'è una riduzione dei termini di sospensione della domanda di protezione internazionale che oggi è prevista a 12 e viene ridotta a 9. Poi, ecco, come avevamo anticipato c'è un intervento in tema di identificazione dei minori stranieri non accompagnati tema abbastanza noto ai più che ci ha molto sollecitato molto interessato soprattutto in questo periodo di rilevanti e ravvicinati a flussi di cittadini dichiarati i minori stranieri non accompagnati qui interveniamo senza derogare in ogni modo rispetto alle tutele che competono soprattutto per conformità al diritto dell'Unione Europea alla condizione di minoretà viene previsto semplicemente che fotografando poi un po' quello che avviene nella situazione in caso di appunto situazioni di rilevanti afflusso e nel caso di indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate ai minori stranieri non accompagnati per il prefetto possa disporre un provvisore inserimento del minore ultra 16enne in strutture di prima accoglienza come Icara e Cas quindi strutture ordinarie per un periodo provvisorio comunque non superiore a 90 giorni questo fotografo è una situazione di stato di necessità che si è verificato cioè talvolta mancano rilevante numero di persone che si presentano e che si dichiarano minori non ci sono le disponibilità e quindi ci possa essere questa in ogni caso non vengono meno il regime delle tutele quindi di trattamento differenziato sotto altro agni aspetto del sedicente insomma del presunto minore per quanto riguarda l'accertamento dell'età del minore viene stabilito sempre in caso di arrivi consistenti multipli e ravvicinati che l'autorità di pubblica sicurezza possa disporre una rilevazione antropometrica sapete un po' tutti esiste questa applicazione normativa per cui i criteri che sono stabiliti dalle normative vigenti si sono rivelate a volte un po' complesse rispetto alla possibilità oggettiva di addivenire alla definizione della condizione di minorità in tempi celeri e quindi possa fare questa rilevazione antropometrica o altri accertamenti anche radiografici volta all'individuazione dell'età ed è previsto che qualora all'esito di questi accertamenti la condizione di minorità fosse contraddetta dalla rilevazione si possa applicare la sanzione sostitutiva dell'espulsione ovviamente perché poi ci sarebbe la conseguenza anche da un punto di vista penale insomma per quelle che sono le false dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interessata inoltre da fine per accelerare l'ordinaria procedura di accertamento socio-sanitario dell'età del minore si prevede che questa procedura debba concludersi nel termine di 60 giorni dalla via dello stesso da parte dell'autorità giudiziaria poi c'è un intervento normativo che riguarda la conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati oggi la normativa in sostanza ha un regime di favore per i minorenni perché al compimento della maggiorità prevede un meccanismo di favore diciamo della conversione del permesso per motivi di lavoro e ovviamente viene stesa un po' sul modello di quello che avviene agli accertamenti che vengono fatti in occasione della gestione dei decreti flussi che la verifica dei requisiti della regolarità dei contratti che vengono offerti per questa conversione sia possa essere svolta anche da professionisti quali consulenti del lavoro e le organizzazioni dei datori di lavoro al fine di verificare l'eventuale insussistenza dei requisiti oggetto dell'asseverazione e in caso negativo che insomma è previsto che il permesso di soggiorno possa essere revocato poi ci sono delle misure di accoglienza che riguardano la possibilità sempre in momenti in cui ci siano per l'effetto di arrivi consistenti e ravvicinati in disponibilità di posti che si possano derogare entro certi limiti ai parametri di capienza tra volte stabiliti da normative anche territoriali sia per le strutture ordinarie di accoglienza e anche in quota percentuale minore per quelle che sono le strutture di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e ecco poi c'è un intervento normativo che era stato nel fatto che fosse trapelato era stato mal interpretato si diceva che insomma il decreto si riprometteva di come dire toccare le tutele delle donne in stato di gravidanza in realtà è un intervento che estende la categoria di vulnerabili che possono accedere al famoso SAI che è il sistema di accoglienza e di integrazione non solo alle donne in condizioni di gravidanza ma a tutte le donne questo quindi è un intervento che ripeto nel modo in cui era trapelato era stato mal interpretato come una limitazione dei diritti delle donne in condizioni di gravidanza in realtà è un'estensione facciamo un'operazione di estensione del beneficio della condizione di vulnerabilità e quindi della possibilità di accedere al sistema SAI anche a tutte le donne poi c'è un altro intervento importante pure che fotografa un po' le situazioni che abbiamo vissuto quest'estate che sono delle misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti l'esempio è Lampedusa ma non solo è previsto che i comuni interessati dalla presenza dei centri che poi sono in qualche modo funzionale alla gestione di questi arrivi ravvicinati possano fruire di un adeguato sostegno organizzativo finanziario è previsto che fino a tutto il 2025 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti anche speciali connessi alle attività quindi della gestione degli hotspots possa essere assicurati direttamente dallo Stato per il tramite dei prefetti quindi è un sollievo che diamo ai comuni talvolta comuni piccoli che quindi si trovano a vivere queste condizioni di disagio quindi anche con possibilità di affidamenti diretti da parte dello Stato del servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti ovviamente il tutto poi l'individuazione di questi comuni per non farla a priori con il rischio di escludere qualcuno viene fatto con decreto del Ministro dell'Interno che verrà adottato successivamente dove in base a criteri oggettivi saranno individuati gli ambiti territoriali di riferimento passando ad altro tipo di materia quindi misura per il supporto alle politiche di sicurezza c'è una norma che prevede il supporto delle forze armate per le esigenze di pubblica sicurezza e incrementiamo di ulteriore 400 unità il personale delle forze armate per l'impiego soprattutto nei servizi di sicurezza nelle stazioni ferroviarie sapete che da tempo è obiettivo del governo di implementare anche la sicurezza nei luoghi come le stazioni ferroviarie soprattutto delle aree metropolitane con servizi che abbiamo definito alt'impatto che ci stanno dando significativi risultati in termini di percezione della sicurezza anche se per mancano dei problemi ecco cominciamo ad incrementare la dotazione delle unità del personale appartenente alle forze armate non è previsto alla norma ma insomma vi riprometto anche di dare direttive perché a partire da questi interventi il personale delle forze armate forse a disbligare in maniera anche non più solo statica ma anche in maniera dinamica in maniera molto più integrata rispetto all'attività delle forze di polizia per esercitare al meglio quella che ha la funzione operativa e di deterrenza che possono svolgere nei contesti dove operano come quelle delle stazioni ferroviarie poi c'è una norma che riguarda ecco queste sono un po' di norme di beneficio per le forze di polizia viene previsto che alcuni risparmi di spesa alcune rinvenienze sui bilanci delle forze di polizia e delle forze armate possano essere destinati al pagamento di straordinari in eccedenza che talvolta hanno svolto le forze di polizia e le forze armate nell'esercizio di questi servizi il meccanismo tanto per capirci non è che ci sono somme che per negligenza di gestione sono rinvenienti soprattutto sulle assunzioni assunzioni che sono quantificate all'inizio dell'anno che trovano poi compimento a metà anno a fine anno per l'espletamento dei concorsi la somma che è stata risparmiata diciamo così adesso lo spiego perché è opportuno giustificare che non ci sono solitamente insomma grandi economie sui bilanci delle forze di polizia ecco le somme rinvenienti in questo caso anziché andare perdute diciamo così nella gestione del singolo esercizio di bilancio viene destinato agli straordinari delle forze di polizia da ultimo una cosa simile adesso questa è una tecnicalità più da da Ministro Giorgetti insomma vabbè ci sono l'analogo meccanismo insomma di alcune disponibilità in conto capitale nella disponibilità sempre dei bilanci delle forze di polizia e delle forze armate che sono rinvenienti non ancora investite possono essere vengono riversati in un fondo speciale in via di istituzioni con un'autorizzazione di spese che arriva fino al 2030 per il potenziamento strutturale di infrastrutturale insomma sempre per spese in conto capitale delle forze di polizia e delle forze armate e quest'ultimo chiudo dicendo quest'ultimo intervento che per noi era importante per dare anche un segnale al sistema della sicurezza delle forze di polizia delle forze armate che sono poi gli attori principali del contrasto immigrazione irregolare tema sicurezza questo è un intervento di necessità e urgenza e quindi imponeva il contenimento di alcune norme secondo appunto la fotografia di questi due prerequisiti necessari però ecco io ho condiviso un ragionamento in consiglio dei ministri con i colleghi proporrò l'avvio di un lavoro ovviamente da fare con tutti i colleghi di governo e con le forze di maggioranza per un disegno di legge più di carattere organico sui temi della sicurezza e della tutela delle forze di polizia quindi un intervento che avendo condizioni nelle prospettive di organicità sarà oggetto di lavoro nei prossimi mesi quindi nelle prossime settimane nei prossimi mesi nella redazione dello stesso e nella condivisione all'interno delle forze che sostengono il governo e che avrà questi due finalizzazioni principali grazie due parole grazie a voi intanto della presenza la collega Piantedosi ha già illustrato efficacemente norma per norma quello che è quella che è la novità della disciplina sulla immigrazione io mi limiterei a delle considerazioni di ordine generale che derivano anche dalla mia esperienza di pubblico ministero come penso sappiate fino a cinque anni fa io ero procuratore della Repubblica a Venezia e quindi processi di questo in questa materia ne ho celebrati centinaia l'altro giorno l'altro giorno è stata celebrata avete visto davanti in modo solenne la figura del presidente napolitano ed è stata anche ricordata giustamente la sua opera come ministro degli interni dico questo perché la prima normativa che riguarda la disciplina dell'immigrazione risale al 1998 ed è la legge che si chiama turco-napolitano recca la firma dell'allora ministra della solidarietà e dell'allora ministra degli interni questa legge poggiava e poggia perché in parte è ancora vigente anche se poi come vedremo è stata modificata da altre su alcuni principi in Italia si entra soltanto attraverso una autorizzazione un visto salvo quelli che hanno diritto perché appartengono ai paesi non europea però si entra a previa autorizzazione chi entra illegalmente salvo che non appartenga a una categoria protetta e quindi rifugiato politico e altro deve essere espulso chi nonostante l'espulsione rimane in Italia deve essere sottoposto a processo questo era il cursus questa legge è stata modificata varie volte soprattutto dalla Bossi Fini alcuni anni dopo e attualmente la disciplina cosa che nessuno sa la disciplina sull'immigrazione clandestina occupa circa 250 pagine di un codice di penale di procedura penale che ciascuno di voi può acquistare o anche compulsare in una libreria perché si è sedimentata tutta una serie di normative in un certo senso anche contraddittorie ma soprattutto inefficaci che sono diciamo così non solo di difficile interpretazione ma di quasi impossibile attuazione concreta questa premessa per dire che questo provvedimento di oggi si inserisce in un percorso che vorremmo essere esattamente l'opposto di quello che è stato fatto fino adesso fino adesso non abbiamo prodotto norme e carte che significa e ha significato che tutte le persone che avrebbero dovuto essere materialmente espulse del territorio italiano venivano raggiunte da un provvedimento veramente cartaceo che peraltro rimaneva ineseguito allora noi con questa normativa abbiamo cercato poi il ministro degli interni l'ha già illustrato efficacemente abbiamo cercato di riportare anche a una efficacia concreta quello che fino a ieri era semplicemente una serie di astrazioni speculative perché la produzione ripeto di questi provvedimenti era meramente cartaceo i rimpatri e i rispengimenti de facto e non de jure erano estremamente limitati tutto questo e ho finito nel rispetto sia della normativa internazionale sia della normativa europea vorrei dire anche dell'etica soprattutto per quanto riguarda il trattamento dei minori come avete sentito vi è una secondo me anche una maggiorazione di tutela nei loro confronti però vorrei concludere dicendo che se non si ha davanti il quadro generale di un fallimento normativo al quale abbiamo assistito in questi ultimi 25 anni allora non si capisce neanche perché cominciamo adesso a provvedere in un modo sicuramente anche settoriale a petit paquet perché non si può fare tutto in una volta però certamente in modo efficace passiamo alle domande e iniziamo con Andrea Pira di Milano Finanza buongiorno signori ministri è una domanda per il ministro Giorgetti in realtà sono due e una molto breve tra i dati c'è anche quello della riduzione della pressione fiscale e poi è una manovra sarà una manovra molto in deficit si è parlato di privatizzazioni c'è l'idea dell'exit del MPS ma il ministro Tagliani ha parlato anche ha dato suggerimenti ad esempio su porti e su altre ipotesi si può andare in questa direzione grazie sì ci sarà il dato della pressione fiscale che prevediamo ovviamente riduzione per quanto riguarda le privatizzazioni sicuramente sì l'orizzonte pluriannale è di circa l'1% del PIL vorrei dire che per quanto riguarda il se il quando queste privatizzazioni verranno effettuate le decide il ministro dell'economia e per quanto riguarda l'MPS questa è una storia di un grande successo italiano una banca solida è quasi incredibile anche in termini di performance se pensiamo alla situazione ereditata semplicemente due anni fa e con riferimento all'MPS se e quando operazioni verranno decise la deciderà il ministro dell'economia e lo dirà evitando fenomeni di speculazione che purtroppo mi sembra di vedere in queste ore in questi giorni e sicuramente con l'obiettivo di rafforzare la banca e il sistema bancario italiano Flavia Rotondi di Bloomberg a proposito di Montepaschi vorrei chiederle più nello specifico se è possibile pensare ad una ricerca anche di un'alleanza per creare un terzo polo per MPS e poi visto che appunto se ne è parlato sui mercati se è pensabile anche una cessione di un mini pacchetto di circa 15% sarà detto in tempi brevi proprio sul mercato grazie sì l'obiettivo è di fare politica industriale quindi Monte dei Paschi può rappresentare una leva per costruire un polo forte bancario non abbiamo necessità di fare cassa subito e quindi le valutazioni che farà il ministero e il ministro saranno quelle appunto nell'interesse della banca e dei suoi azionisti in particolare di quelli che hanno partecipato a questa grande operazione di successo tutta italiana sempre il ministro Giorgetti buonasera volevo capire se l'avvio dell'attuazione della delega fiscale per ridurre le tasse significa che agirete sull'IRPEF riducendo gli scaglioni e se avete già avuto riscontro da Bruxelles che anche lì considerino di assoluta ragionevolezza il 4 e 3 di deficit per il prossimo anno io credo che alla commissione stiano delle persone che hanno fatto politica e fanno politica e quindi diversamente dai banchieri centrali che fanno legittimamente il loro mestiere e decidono in autonomia da altri tipi di considerazione sicuramente comprenderanno la situazione come la comprendono molti colleghi i ministri delle finanze europei che si trovano a dover gestire una situazione di rallentamento dell'economia o in qualche caso addirittura di recessione la delega fiscale comincerà partendo dai redditi più bassi degli scaglioni più basso dei redditi giuseppe colombo repubblica ministro buonasera lei ha invocato responsabilità prudenza in questa legge di bilancio lo spread oggi ha chiuso a 195 la porta un po' fuori Italia è bastato parlare un po' di deficit che i rendimenti sui titoli sono tornati ai massimi lei non teme che scelte come la tassa sulle banche e le modifiche al disegno di legge sui capitali sono state scelte azzardate e abbiano contribuito a creare sfiducia dei mercati nei confronti dell'Italia grazie per quanto riguarda sulle banche io l'ho detto in consenso pubblico chiedendo di aspettare la versione finale della medesima credo che la versione finale della medesima sia una grande operazione di politica industriale bancaria e al termine della quale probabilmente le banche italiane saranno le più solide d'Europa ok e facendo riferimento alle cosette retromarce il governo non ha mai previsto e non ha mai utilizzato per il stato di finanza pubblica né nella prima versione né nella seconda il gettito dell'imposta sulle banche quindi evidentemente chi parla di questo usa l'auto con la marcia automatica non sa usare le marce più complessivamente io ribadisco l'approccio è un approccio di responsabilità e prudenza l'andamento dello spread dipende probabilmente anche da altri tipi di fattori e credo che poi tutti gli analisti potranno valutare quali sono le proposte che noi mettiamo nel dettaglio sul terreno per quanto riguarda invece il suo interesse sul DDL capitali non sono proposte dal governo ma sono proposte fatte da parlamentari e da relatori anche lì invito a verificare quale sarà la versione finale su cui il governo dà parere favorevole Riccardo Angelo Ronconi di Eurocomunicazione Buonasera signori ministri e la mia domanda per il ministro Giorgetti abbiamo letto che vorrebbero introdurre il bonus pensione di Maroni e se è così quali sarebbero gli obiettivi grazie io credo che abbiate capito che ho questo mantra del problema di offerta il problema di offerta significa che noi abbiamo bisogno di imprese abbiamo bisogno di lavoratori ci sono alcuni settori alcune professioni dove abbiamo carenza di rimanete figure professionali forse è il caso invece di incentivare il pensionamento incentivare il restare al lavoro monetizzando in busta quello che è diciamo così la montare oggi come oggi del cuneo contributivo e magari anche fiscale quindi il nostro interesse è che la gente continui a lavorare e preferisca rimanere sul posto di lavoro invece che accedere alla pensione e per questo motivo quella norma io l'ho voluta riproporre diciamo che ci sono voluti nove mesi per la circolare interpretativa e applicativa cosa che è tipico della burocrazia italiana però sono convinto che abbia grandissime potenzialità appunto per ricoprire alcune figure professionali di cui disperatamente abbiamo bisogno posso fare degli esempi dai medici ai saldatori ai tornitori che non si trovano più neanche diciamo così a cercarli con l'alternino Barbara benvenuto la 7 salve ministro per lei abbiamo visto che avete stretto le norme che poi portano alle espulsioni e tra queste ci sono anche quelle per i minori che vengono trattate in realtà un po' in maniera emergenziale cioè 16-18 anni che poi vanno a confluire in un'accoglienza ordinaria le espulsioni sappiamo che non funzionano i numeri non sono importanti e non abbiamo abbastanza accordi con l'estero quindi ci chiediamo alla logica di queste misure che sono sempre emergenziali rispetto a quello che avete promesso anche in campagna elettorale cioè blocco navale e non vi sembra che avete promesso qualcosa che è irrealizzabile preciso innanzitutto che le misure che abbiamo adottato oggi non riguardano l'espellibilità dei minori è diverso il discorso noi oggi abbiamo previsto in via provvisoria in condizioni determinate del tutto contingenti una possibilità di sistemazione di accoglienza che poi è la fotografia di quello che facciamo solo nel caso in cui la condizione di minorità viene smentita degli accertamenti genera l'espulsione ma rimane inespellibile del minore quindi prima precisazione noi per quanto riguarda le espulsioni il sistema delle espulsioni è un altro dei grandi obiettivi che è stato sempre dichiarato è una sfida una scommessa che abbiamo accettato attraverso il programma di realizzazione delle strutture gli accordi in alcuni casi già ci sono anche per alcune nazionalità che sono insomma tra quelle che forniscono ecco che riguardano una particolare insomma una quote particolare di afflussi che arrivano Tunisia-Egitto per esempio quindi ci sono quindi gli accordi i meccanismi sono complicati insomma conciliare la tutela dei diritti delle persone che comunque noi ci ripromettiamo sempre di salvaguardare con la prospettiva insomma di esercitare l'affermazione insomma della legge anche da questo punto di vista ha una sua complicazione organizzativa logistica ma è quello su cui intendiamo comunque portare avanti quelle che sono i nostri obiettivi che abbiamo non solo con questo provvedimento che insomma sui quali stiamo lavorando anche per i prossimi mesi non abbiamo promesso nulla che non sia materialmente impossibile lei ha fatto riferimento a blocco navale io le segnalo adesso al di là della semplificazione terminologica che è uno dei punti dieci dei dieci punti che ha declinato la Presidente della Commissione Europea a Lampedusa quando è venuta riguarda una missione navale congiunta anche col sostegno europeo quindi quel tema quell'obiettivo che poi era negli obiettivi previsti dalla missione Sofia non è un'invenzione di qualcuno così sospesa in aria anche quella per essere realizzata richiede un'attività ad esempio di carattere diplomatico che si deve confortare anche dal supporto e il sostegno dell'Unione Europea e dei Paesi Europei come sta avvenendo lei ha visto anche dichiarazioni siamo a livello di dichiarazioni di intenti non c'è dubbio ma sono percorsi che se non si avviano e non erano mai stati avviati non vengono portati a compimento e soprattutto c'è l'Unione Europea che ha cambiato linguaggio insieme a noi quindi non è che sono promesse sono cambiamenti di linguaggio sui quali stiamo coinvolgendo anche l'Europa perché lei l'ha visto insomma uno dei dieci punti da ultimo dichiarati insomma del discorso che ha fatto Ursula von der Leyen alla Lampedusa Marco Billegi fan page buonasera due domande una per il ministro Giorgetti Ponte Stretto di Messina ci saranno risorse in manovra per far partire quantieri in che ordine di misura diciamo pochi milioni o miliardi e prese da dove eventualmente per il ministro Piante Odosi invece riprendendo il tema dei rimpatri io volevo capire se siete in grado di darci un numero che voi intendete raggiungere di rimpatri mensili grazie al combinato un po' delle nuove misure che avete messo in campo non solo oggi ma anche nella scorsa settimana e perché appunto se no il rischio non vede il rischio che rimanga un po' sulla carta quello che voi prevedete come d'altronde un esperiente precedenza di governo quando con lei capo di gabinetto il ministro Salvini prometteva 500-600 mila rimpatri che poi non sono stati fatti grazie il fondo il fondo opera infrastrutturali finanzierà come altre infrastrutture anche il ponte sullo stretto il profilo temporale dell'impegno economico dipende dal profilo temporale del progetto e dei relativi stati di avanzamento quindi il ministro delle infrastrutture ha trasmesso una scadenza temporale dell'impegno e quindi sicuramente nel 2024 ci sarà un primo stanziamento connesso all'effettiva allestimento del cantiere allora numeri già quest'anno a normative ed organizzazione invariata noi registriamo un'oscillazione tra il 20 e il 30% di espulsioni in più rispetto all'anno precedente quindi c'è un impegno e un'organizzazione crescente su questo chiaramente la risposta compiuta alla sua domanda non può essere l'individuazione di un numero che chiaramente ha una variabilità anche a secondo della disponibilità di accesso e di condizioni di irregolarità sul territorio nazionale come abbiamo detto la realizzazione di un programma di estensione della rete dei CPR noi la riteniamo importante fondamentale per questo io ho già reso pubblici dei numeri il 52 delle persone che passano nel CPR al 52% si riesce a rimpatriarle fuori dai CPR il 2% il 70% delle persone di cui si riesce ad eseguire l'espulsione passano dai CPR queste percentuali questi numeri sono eloquentissimi c'è bisogno di strutture di trattenimento dove ripeto non c'è la prospettiva di negare diritti umani segnalo nei CPR ci finiscono persone che dopo un percorso di accertamento dell'irregolarità della condizione di soggiorno ha anche delle condizioni di pericolosità che vengono decretate e convalidate dall'autorità giudiziaria teniamolo sempre presente questo quindi i CPR sono importanti quindi noi nella estensione della rete dei CPR intendiamo ovviamente riporre l'aspettativa che ci sia una percentuale crescente di incremento dell'espulsione quindi questi sono i numeri che le dicono chiaramente noi abbiamo una prospettiva ancora di quattro anni di lavoro quattro anni veloci ci siamo dotati di procedure anche derogatorie accelerate per la realizzazione del CPR se insomma porteremo a compimento quello che ci siamo ripromessi di fare ecco i numeri saranno sicuramente migliori e crescenti ok le ultime due domande Manolo Lanaro del Fatto Quotidiano buonasera Ministro una domanda per il Ministro Giorgetti spending review dei ministeri a noi risulta che al 10 settembre avevano risposto solo tre ministeri tre ministri se ci conferma il target per quest'anno di 300 milioni di 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 tagli di risorse che vengono risparmiate grazie ho due testimoni qua al tavolo l'ho detto in Consiglio dei Ministri il lavoro che non hanno fatto i singoli ministri lo farà il Ministro dell'Economia nel loro vece e addirittura intensificherà i tagli della spending review e quindi quando pensate di prenderci quando pensate di prenderci per la spending a chi è due miliardi 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 mi sembra un po' difficile se vuole se vuole ammazzare un morto e passiamo all'ultima domanda Santi Pinol di Market News Buonasera Ministro Giorgetti la mia domanda è lei ha parlato della freddezza dei banchieri centrali e voglio chiedere se con questo deficit per il 2024 quel meccanismo il TPI che dipende dalla BCE che è diverso dalla commissione che forse è più attenta ai colleghi sulla finanza pensa che l'Italia può essere protetta su questo meccanismo in questo quadro e senza avere ratificato il MES tutto questo o se almeno i mercati vorranno provare testare se la BCE protegge l'Italia con il spread del TPI allora io prima ho detto semplicemente che il mestiere del banchiere centrale è diverso del mestiere del ministro se io fossi al posto di Christine Lagarde magari farei le stesse cose che fa lei se Christine Lagarde fosse qui questa sera probabilmente direbbe le cose che sto dicendo io confido che la Banca Centrale Europea sappia gestire gli strumenti che ha disposizione con saggezza e lungimiranza per garantire la stabilità del sistema e ribadisco che questo questa proposta di bilancio questa proposta di programmazione economica è seria e responsabile e credo che la risposta che ho testedato rispetto all'intervento sulla spesa pubblica lo testimoni nel senso che quello che abbiamo fatto quando in qualche modo sarà declinato anche puntualmente la legge di bilancio dimostrerà a tutti e ai mercati il nostro tipo di profilo non vedo la correlazione col MES che dipende da altri tipi di valutazioni e onestamente anche questa diciamo rispetto scostamenti o vari francamente io non l'ho mai posta né mai ne ho sentito parlare quindi è un binario parallelo che risponde a delle logiche di altro tipo bene grazie a tutti buon lavoro e buona serata grazie grazie